Otto cose che gli uomini trovano irresistibili in una donna. Allora, ci sono otto cose che contribuiscono a rendere una donna irresistibile agli occhi di un uomo. La prima cosa non è un qualcosa che, diciamo, è fisica o visiva, ma è uno stato d'animo interiore. E' l'autostima che questa donna ha. Perché l'autostima, quanto una donna si ama, quanto una donna si piace, quanto una donna desidera essere bella, desidera sentirsi bella, quanto è forte il suo desiderio, la sua forza interiore, questo diventa irresistibile per un uomo. Gli uomini amano tantissimo le donne che hanno la capacità di gestire le proprie relazioni sentimentale effettive, ma soprattutto le relazioni con se stesse. Cioè una donna che si ama ha un sex appeal fantastico. Provare per credere. Inizia a dare valore a te stessa, inizia ad amarti, inizia a utilizzare il mantra che raccomando sempre. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Affermandolo quando sei in una situazione emotiva, positiva o negativa, non importa, perché la nostra parte emotiva si nutre costantemente di emozioni. Se tu fai questo, riuscirai a raggiungere veramente dei risultati fantastici dal punto di vista dell'essere irresistibile nei confronti di un uomo. Il secondo punto, invece, è un qualcosa che riguarda i sensi e soprattutto l'olfatto. L'olfatto è uno dei sensi più antichi, è uno dei sensi più atalici dell'essere umano e quindi scegli bene la tua fragranza. Il tuo profumo, ciò che emani, abbinato all'odore della tua pelle, è veramente importante. Evita fragranze pesanti e ti suggerisco anche, se puoi, siccome la fragranza, diciamo, dipende anche molto dal... Noi produciamo naturalmente dei ferroormoni e le donne emettono questi ferroormoni, soprattutto lì, come dire, dal collo, dalle ghiandole sebacee nel collo, nella nuca. E quindi, muovendo i capelli, questi ferroormoni, diciamo, si spostano, si muovono e vanno verso, come possiamo dire, il maschio che ti interessa, che ti troverà irresistibile senza neanche rendersene conto. Quindi più che puoi sciogli i capelli, muovili, utilizzando però una fragranza che anche poi da un punto di vista logico piace, perché i ferroormoni sono analogici, non deve essere qualcosa di molto pesante, che vada proprio a coprire gli ormoni naturali emessi, ma deve dare un piacere anche da un punto di vista logico e razionale. Quindi non troppo coprente, giusto un pizzico di una fragranza fruttata, profumata, e che abbinata proprio agli ormoni, i ferroormoni emessi, attragga su un piano olfattivo. Il piano olfattivo è un piano fondamentale per piacere a un uomo. E poi un altro parametro molto importante che ti suggerisco è quello di creare degli ancoraggi emozionali. Quindi ogni volta che vedi l'uomo che ti interessa, allegro, eccetera, crea un ancoraggio. Ad esempio toccagli una spalla, avvicinati, usa un certo tono di voce particolare, perché si creerà un'associazione positiva tra te e l'emozione vissuta. Quindi non soltanto darai automaticamente il nutrimento emotivo alla sua sfera emotiva, ma anche, possiamo dire, alla, come dirà, la sua parte logica, che ti identificherà come positiva, perché la parte logica vuole il positivo, il bello, non il negativo. Quarto punto che ti suggerisco è impara a gestire la voce. La voce è molto importante per coinvolgere, per sedurre, per far innamorare. Cerca di variare un po' il tono. I toni eccessivamente monotoni non piacciono, cerca di capire se il tuo lui si aggancia maggiormente un po' al tono duro o al tono dolce. Questi sono dei tratti fondamentali. Devi imparare a gestire la tua voce. Puoi esercitarti, puoi esercitarti davanti allo specchio. Questo è un punto fondamentale. Prova a variare il tono di voce. Cerca voci più suadenti e alternate a voci un po' più, come dire, determinate, dure, assertive, diciamo così, stressando un po' le parole. E vedi su quale di queste due modalità agganci la persona. Questo dipende un po' dall'imprinting che la persona ha vissuto, per cui tu poi potrai sfruttare, diciamo, questa tonalità con quella persona. Magari con un altro dovrai imparare l'altra modalità. Siccome sono due, tanto vale impararle entrambe e osservare, dirimando, i segnali che ti dà la persona. È ovvio che se dirimando si tocca le labbra, viene in avanti, saccherà i capelli, beh, è positivo. Se raschia, si tocca il naso, va indietro, significa che la risposta è negativa. Per cui questo devi tenerlo presente, fondamentalmente presente. Quindi è molto importante questo. Poi un'altra cosa fondamentale, il quinto punto, è la camminata. Come una donna cammina è un punto molto importante, un punto fondamentale. Camminare è dinamicità, ti fa apparire in un certo modo. La camminata più attraente, più irresistibile, è quella in cui leggermente sei ancheggiante. Lo tieni camminando, facendo strisciare leggermente le caviglie quando fai un passo e mettendo un po' un piede davanti all'altro. Guarda come sfilano in passerella le fotomodelle, perché questa è la camminata più seducente. E tra l'altro attira gli occhi sul bacino e quindi è molto, molto intrigante questa camminata. Gli uomini la trovano irresistibile. Te la consiglio, perché è fondamentale. E poi il sesto punto, anche qua, è fondamentale. È come ti siedi. Le due cose che gli uomini trovano irresistibili sono come una donna cammina e come una donna sta seduta. Anche qua, ovviamente, le gambe accavallate. La gamba di sopra deve essere un po' più alta di quella di sotto. Il piede della gamba accavallata deve essere un po' flesso in questo modo, in modo tale da, diciamo, rendere il tutto più intrigante. Ovviamente, siccome molti uomini sono anche un po' feticisti, sono così in modo più o meno velato, utilizzare delle scarpe di classe di qualità col tacco è sempre molto intrigante. Gli uomini lo trovano irresistibile. Soprattutto se magari parlando così, senza, diciamo, che diventi una cosa eccessiva, ti puoi tranquillamente accarezzare un po' la gamba. Questo è un gesto molto, molto intrigante. E poi il settimo, la settima, diciamo, la settima cosa che gli uomini trovano irresistibile in una donna è, e l'abbiamo già detto prima, per un certo verso, ma voglio approfondire, è una donna che si scopre i capelli e esibisce il collo. E il collo ha tante caratteristiche, rappresenta il collo scoperto, è molto, molto importante. E' veramente un gesto molto seducente, molto attraente, che gli uomini trovano irresistibile. E l'ottavo è farti percepire come una donna passionale, ma soprattutto non volgare, soprattutto una donna elegante di classe, una donna raffinata, che però questa raffinatezza non ti renda rigida, ma che conservi la tua passionalità. Ecco, queste sono otto cose che gli uomini trovano veramente super sexy. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo inoltre di iscriverti al canale attivando la campanella.